Pagare tasse e tributi da oggi diventa molto più semplice perché grazie ai nuovi servizi online attivi sul portale del Comune è possibile conoscere la propria situazione contributiva, stampare avvisi di pagamento e produrre comodamente da casa e i modelli F24 per il versamento. È una procedura che semplifica enormemente la riscossione dei tributi locali, evitando da un lato lunghe code agli sportelli e dall'altro il verificarsi di errori ed omissioni che si traducono in livelli di evasione altissimi per l'ente. Basta iscriversi nell'apposita sezione servizi online presenti sulla homepage del Comune per visualizzare le notizie aggiornate sul proprio stato contributivo e verificare di essere in regola con il pagamento dei tributi dell'anno in corso e di quelli passati. Tra i servizi disponibili ci sono la possibilità di visualizzare i versamenti effettuati, scaricare il modulo di pagamento F24 e collegarsi tramite la sezione Catasto e questa la grande novità al database dell'Agenzia delle Entrate per visualizzare tutte le informazioni sugli immobili di proprietà. C'è proprio il link Catasto e andiamo a verificare se correttamente è stato fatto il calcolo dei tributi, per esempio dell'Atari che viene fatto ovviamente sui metri quadrati. E addirittura sul link del Catasto c'è anche la simulazione del calcolo, quindi si può velocemente verificare se i calcoli fatti dal Comune sono fatti correttamente o meno. Nell'ottica della semplificazione delle procedure rientra anche la nuova bacheca di messaggistica che permetterà agli utenti di inviare quesiti all'amministrazione senza doversi recare fisicamente presso gli uffici tributari di Corso Arnaldo Lucci. Quindi se c'è un errore viene segnalato nella bacheca, si può avere addirittura poi la duplicazione con la correzione del bollettino che viene chiaramente ripreso online. Quindi tutto questo si fa attraverso un computer con una stampante senza comodamente a casa o in un ufficio senza dover andare agli uffici comunali. Quindi invito tutti i cittadini ad utilizzare il nostro portale perché lì si ha la possibilità di poter consultare i propri adempimenti e modificarli e dialogare con l'amministrazione comunale nella maniera più corretta, più interattiva e anche più comoda.